Allora stavo pensando a una delle tante discussioni che ho fatto ultimamente con gli utenti che si considerano ancora oggi di sinistra e che magari mi vengono a criticare per le posizioni che ho definendole appunto troppo di destra, troppo sovraniste eccetera. E la cosa che mi lascia ogni volta perplesso è che queste persone considerano di sinistra oggi ciò che di sinistra storicamente non è, cioè hanno interiorizzato tutta una serie di concetti che gli sono stati venduti come idee di sinistra. Mentre invece ciò che storicamente dovrebbe essere ed era la sinistra perlomeno a parole perché poi ovviamente i fatti hanno dimostrato che soprattutto proprio i partiti tra virgolette di sinistra hanno portato avanti le peggiori politiche contro gli interessi nazionali. Ma c'era comunque un racconto, un modo di parlare e dei concetti che venivano espressi che oggi quella stessa sinistra considera addirittura tossici. Io mi ricordo quando partecipavo alle feste dell'unità, quando ancora votavo partito democratico, ascoltavo, venivano come dire messi in filo di fusione le varie canzoni, le musiche di quel mondo lì, tra le quali c'era quella degli intilimani, no? Il pueblo unito amassero avvenzito, il popolo unito non sarà mai vinto. Ora, quel concetto lì del popolo unito è considerato, a distanza di un po' di anni, totalmente negativo da quelle stesse persone lì che prima si consideravano di sinistra, che ancora oggi si considerano di sinistra, ma hanno totalmente cestinato quelli che erano i valori base della sinistra. E' gente che se gli parli di lavoro, di lavoro, è assolutamente disposta ad appoggiare qualsiasi politica che precarizzi il mondo del lavoro, che aiuti le grandi multinazionali, perché bisogna essere competitivi, perché non ci sono abbastanza soldi, perché il lavoratore del nuovo millennio deve essere uno che si muove in continuazione, non deve avere la dimora fissa, la famiglia, la famiglia è un'altra cosa terribile, terrificante, bisogna essere liberi, andare in giro per il mondo senza diritti sociali, perché sono altre cose di cui bisogna liberarsi, però la libertà di un uomo sta nel potersi mettere due tacchi e spillo e farsi chiamare Samantha. Cioè, sono cose, veramente, che con la sinistra storica non hanno nulla a che vedere, sono delle distorsioni. Quando parli con queste persone e ti ripetono cose come l'accoglienza, l'integrazione, ripetono queste parole d'ordine, tu gli dici, ok, va bene accogliere chi ha bisogno, va bene accogliere chi scappa dalla guerra, va bene accogliere chi è più debole, come dire, battersi per i più deboli era un'idea di sinistra, ma sfruttare i più deboli, usarli nei campi di pomodoro, o lasciarli in una strada a mendicare, o, come dire, farli scontrare con i lavoratori autotoni per vedere chi lavora a salario più basso, non è una cosa di sinistra, è un qualcosa che aiuta il capitalismo, è qualcosa che aiuta le grandi industrie, che aiuta coloro che vogliono, appunto, arricchirsi spendendo il meno possibile per i propri operai. E questa cosa non gli entra, perché hanno interiorizzato il concetto per cui, appunto, bisogna pagare di meno, è giusto pagare di meno chi lavora perché bisogna esportare quanto fa la Cina, quanto fa l'India, quanto fa la Russia, quanto fanno gli altri paesi, eccetera. Ripeto, sono tutte idee che non hanno niente di sinistra, però sono ammantate di una patina, come dire, di una specie di, immaginate una specie di coperta di seta ricamata in maniera molto fine, con tutte delle parole, invece, che richiamano l'aiuto verso i più deboli, verso le minoranze, ma sotto quella coperta c'è una totale, c'è un totale apprezzamento nei confronti delle peggiori politiche contro il mondo del lavoro, contro i giovani, contro il popolo, per questo è il Pueblo Unido massero avvenzito. Oggi la gente che vota PD, legge Repubblica, ma vi dirò anche quelli che appoggiano l'abbonino o il potere al popolo, fondamentalmente, da una parte dicono di essere a favore dei più deboli, ma dall'altra, se poi gli chiedi, ma cosa ne pensi dell'Europa, cosa ne pensi dei trattati, cosa ne pensi di tutti questi vincoli che impediscono allo Stato di aiutare l'economia reale e di aiutare quindi i più deboli, ti diranno che invece sono d'accordo, perché l'idea per loro di Stato, di nazione, di patria, non ne parliamo poco, deve essere distrutta, deve essere smantellata perché di per sé è sbagliata. Anche questo, che c'entra con la sinistra? Cioè una sorta di deformazione dell'internazionalismo? Non lo so, non me lo so spiegare, cioè, oddio, me lo so spiegare, però senza entrare troppo nello specifico. È incredibile questo cambiamento che c'è stato proprio di marketing della sinistra. Altri concetti, ad esempio quando dicono, non so, la lotta al patriarcato, queste cose veramente pazzesche, che vuol dire la lotta al patriarcato? Che cosa c'è un patriarcato che soffoca le donne? Ma in questo mondo di disuguaglianze a soffrire sono sia le donne che gli uomini. Non c'è una dittatura degli uomini sulle donne, perché gli uomini potenti, che fanno parte di quell'1% di popolazione che ha la stragrande maggioranza della ricchezza, soffoca altri uomini. E buttarla su questo scontro tra uomini e donne è veramente demenziale e aiuta quella lotta tra poveri, la lotta all'interno del popolo, che è la cosa migliore per chi invece detiene le grandi ricchezze e sta sopra e non vede l'ora di vedere sotto di sé gente che si picchia e si massacra a vicenda. Sono cose, ripeto, che non sanno di sinistra, non sono cose di sinistra, sono invece spazzatura globalista, perché quando invece si capisce che quella che ha infettato la sinistra, ma in generale tutta la politica, perché veramente le oasi sono pochissime, è un'idea di mondo globalista per cui qualsiasi concetto di comunità deve essere cancellato, a partire dalla famiglia fino ad arrivare allo Stato. L'unica cosa che deve rimanere è un mucchio di individui il più scollegati possibile tra di loro, che si consolano con una quantità infinita di diritti civili con cui possono sentirsi liberi, ma quando si tratta dei diritti sociali e che quindi hanno a che vedere appunto con le comunità, ripeto, dalla famiglia allo Stato, a quel punto non devono avere nessuna tutela. E queste persone che si considerano di sinistra pensano che tutto questo sia normale, sia giusto, sia addirittura qualcosa che abbia a che vedere col futuro e col progresso. Ed è questa la cosa che veramente mi fa diventare matto. perché poi queste persone sono quelle che appunto ti vengono a dire che loro combattono il fascismo e il razzismo. Anche lì. Vogliamo combattere il fascismo? Vogliamo combattere qualsiasi forma di dittatura? Va benissimo. Combattiamo ogni potere che si impone sulla volontà popolare. Ma se gliela metti così, non ti vengono dietro, perché la volontà popolare, insomma, non è che ci piace tanto. Il suffragio universale forse andrebbe abolito, perché i popoli non lo sanno che ci sono cose più importanti, tenere i conti in ordine, stare dietro lo spread, stare dietro alle agenzie di rating. Cioè, ma questo che cosa ha a che vedere con la sinistra? Ma come? La sinistra dovrebbe essere la voce, doveva essere la voce del popolo. Ripeto, solamente da un punto di vista culturale, propagandistico, di idee, perché poi, ripeto, i fatti dimostrano il contrario. Ma si dicevano queste cose, almeno nel mondo della sinistra, che bisognava stare dentro il popolo. Ci sono stati anche esponenti della sinistra storica che effettivamente stavano in mezzo alla gente. Oggi, invece, essere di sinistra significa essere fondamentalmente un demofobo, cioè uno proprio che schifo, il popolo che vota, il popolo che vota per la Brexit, il popolo che vota per Orban, il popolo che vota contro l'Europa, il popolo che si esprime per un governo che non mi piace, che schifo! Cioè, ma tutto questo, che ha a che vedere con l'essere di sinistra? Per me, niente! È un modo di essere elitario, totalmente elitario, sprezzante nei confronti della democrazia. E poi c'è la lotta al razzismo. La lotta al razzismo, penso che sia una delle più grandi pippe mentali che queste persone si fanno, perché poi, per loro, essere razzista, fondamentalmente, è parlare e rivendicare, parlare di confini, parlare di stati, rivendicare la differenza che c'è tra popoli, e fondamentalmente rivendicare la libertà di uno Stato di decidere chi far entrare, chi no. Già solamente questo è razzismo. Per combattere il razzismo bisogna cancellare gli Stati, aprire le porte, fare entrare tutti quanti, fare un unico grande mischione, fregandosene di quelli che sono gli effetti sulla società, sul lavoro, sulla politica, strafregandosene, perché anche soltanto parlarne e chiedersi e farsi qualche domanda è fascista. Cioè, anche qui, non sono idee di sinistra, sono idee globaliste, e sono idee che sono funzionali a chi vuole liberarsi degli Stati, liberarsi di quelli che sono gli unici argini allo strapotere del mercato. È un po' come quando si gioca a Monopoli, in cui praticamente, piano piano, si comprano le varie proprietà private e pubbliche, scusate, e si privatizzano, e ci si scontra con gli altri giocatori fino a che poi non ne rimane uno solo che ha in mano più potere e più soldi possibili. Questo è l'idea di mondo globalizzato, per cui il pubblico deve sparire, deve essere tutto in mano al privato o al sovranazionale. Il popolo deve diventare una melassa, non deve neanche esistere il concetto di popolo, e tutte queste idee, le persone che oggi si spacciano per essere di sinistra le hanno interiorizzate al massimo e le considerano di sinistra. Per questo non c'è da stupirsi che partiti storicamente di destra oggi, come dire, abbiano abbracciato delle idee tra virgolette sovraniste, perché poi il sovranismo è una cosa molto più complessa e da un certo punto di vista molto più precisa. Molto di quel sovranismo che oggi ci viene spacciato come tale è un liberismo mascherato. Ma perché, come dire, sono state lasciate praterie aperte ai partiti tendenzialmente di destra che hanno potuto riappropriarsi di concetti come appunto il salario minimo o i diritti dei lavoratori, i diritti sociali, la centralità della democrazia, il predominio dello Stato sui mercati, ad esempio. Perché la sinistra questi concetti li ha totalmente abbandonati. è diventata la prostituta dell'alta finanza e lo è diventata dal punto di vista politico e anche dal punto di vista culturale. Perché tutto ciò che dice, tutto ciò che è propaganda punta a quello. Il popolo deve smettere di esistere come tale, esistono solamente gli individui, è giusto che non si abbiano più i diritti sociali perché questo è il nuovo mondo del lavoro, è questo. Non vanno bene le identità, non vanno bene le appartenenze, non vanno bene i detaggi, le tradizioni, bisogna passare sul mondo come una sorta di grossa livella, le uniche libertà su cui bisogna battersi sono quelle delle minoranze o i diritti civili. Ma tutto questo, veramente, ripeto, di sinistra non ha nulla. Per questo, tante volte, parlando con queste persone che si considerano persone di sinistra, mi trovo di fronte a degli individui che credono di essere di sinistra ma portano avanti delle idee che sono del peggior capitalismo possibile, del peggior globalismo possibile e peraltro queste persone, e chiudo con questo argomento, credono che il globalismo sia unire i popoli, credono che il globalismo sia aprirsi all'esterno. Non è così. Il globalismo significa distruggere i popoli, il globalismo significa far fuori gli stati e qualsiasi tutela ai popoli, significa metterli al di sotto di ciò che vogliono le multinazionali e l'alta finanza che se ne devono strafregare di quelle che sono le costituzioni, le leggi, le particolarità anche dei popoli, i loro bisogni. Tutto deve essere standardizzato. Questo non ha nulla a che vedere con l'unione pacifica, le alleanze, l'incontro, l'amicizia tra popoli che invece può andare avanti solo se i popoli e gli stati sono sovrani, sono liberi di decidere per se stessi. Eppure queste persone tra virgolette di sinistra credono che uno stato sovrano e anche solo uno stato in cui un popolo abbia un forte concetto di patria, la terra dei padri, per forza di cose diventerà bellicoso e vorrà distruggere gli altri. Altra stupidaggine perché le guerre scoppiano quando ci sono delle disparità economiche, quando ci sono delle piccole elite che vogliono sfruttare il loro potere per mandare a morire milioni di soldati per conquistare quello o quell'altro territorio, quello o quell'altra ricchezza, non perché due territori, due popoli sono diversi e hanno un forte senso di sé. Quello non è un problema, anzi è una ricchezza, è la ricchezza del mondo. E niente, comunque, è difficile far ragionare queste persone e immagino che molti di voi ci abbiano provato senza successo, però insomma noi non molliamo, continuiamo a provarci, chissà se queste persone prima o poi si renderanno conto di ciò che stanno appoggiando, forse non lo faranno mai, alcune invece cominciano piano piano a svegliarsi, però la strada è molto lunga perché purtroppo dall'altra parte c'è anche un potere mediatico martellante che ogni volta che riusciamo a far fare a queste persone un passo le rimandano indietro di dieci passi.